Buona e santa serata a tutti. Io, Eleonora e Pino, siamo ancora qui in sacrestia perché abbiamo preparato tutto per domani. Domani sarà una giornata bella, intensa, che vogliamo vivere come famiglia, come grande famiglia, per supplicare il dono della pace. Lo vogliamo fare rivolgendosi a Gesù misericordioso. Infatti alle 15 pregheremo comunitariamente e ci saranno anche loro la coroncina alla Divina Misericordia. Vogliamo farlo chiedendo le intercessioni di San Giuseppe perché domani inizia la novena di San Giuseppe e vogliamo poi concludere tutti insieme alle 21 con questo appuntamento di preghiera in ginocchio per la pace, un momento bellissimo di adorazione eucaristica. Abbiamo anche provato i canti. Adesso è il momento però di dire grazie al Signore al termine di questa giornata, per l'amore, per i benefici, per la sua protezione, per la benedizione. Mandiamo un affettuoso saluto a tutti, a tutte le famiglie, a tutti i bambini, a tutti gli anziani, a tutti gli ammalati. E il nostro cuore è sempre rivolto a tutta la popolazione vittima della guerra e a tutti coloro che stanno fuggendo da quelle terre. Per questo dobbiamo pregare con forza, per supplicare la pace. Ognuno lo faccia come può, come sa, in ogni momento. C'è una madre che è addolorata, che è la Vergine Maria. Siamo in Quaresima e la Quaresima ci porta nel cuore dell'addolorata. Abbiamo scelto un canto con lei, per lei, alla Regina della Pace. Stavi lì. Ve lo vogliamo far sentire e vogliamo pregare insieme a voi. Stavi lì, o Madre del dolore. Stavi lì, insieme al tuo Gesù. Stavi lì, per salvare tutti noi. O Maria, tu donna del sì. A te è una spada, ha trafitto il cuore. E nel silenzio offrimi il tuo amore. Stavi lì, o Madre del dolore. Stavi lì, insieme al tuo Gesù. Stavi lì, insieme al tuo Gesù. Stavi lì, per salvare tutti noi. O Maria, tu donna del sì. Ed è questo che vogliamo chiedere alla Madonna, di stare lì dove c'è la sofferenza, di stare lì dove c'è il dolore, di stare lì dove c'è un fratello che soffre, e di stare anche qui con noi, perché noi abbiamo bisogno di lei. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti e a domani.